Farà tappa a Campomarino di Marugge il progetto Archeoplastica, l'iniziativa finalizzata a sensibilizzare sul problema dell'inquinamento da plastica e promuovere un uso più consapevole e responsabile di questo materiale. L'evento, promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con Lega Ambiente Marugge e col contributo di Tecno Service, sarà realizzato in una delle sale storiche dell'antica Torre Costiera dei Molini a Campomarino. A prendere parte l'inaugurazione del museo che si terrà a martedì 8 agosto sarà il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, il senatore Nello Musumeci che parteciperà alle ore 10 alla conferenza stampa presso la sala consigliare Vanni Longo e successivamente alle ore 11.30 al taglio del nastro presso la torre di Campomarino. Abbiamo, grazie alla collaborazione di Enzo Suma, l'ideatore di questo progetto, abbiamo creato il primo museo stanziale di rifiuti plastici che provengono dal mare. Finora era stato fatto soltanto in forma itinerante nelle scuole principalmente di tutta Italia, Marugge ospiterà una sessantina di reperti archeoplastici appunto, cioè di plastica rinvenuta sulle spiagge italiane. Per ognuno di questi rifiuti a cui diamo valore è indicata la storia, l'anno, la provenienza, quindi all'interno del museo di archeoplastica di Marugge, quindi di Campomarino, soprattutto un domani le scolaresche avranno la possibilità di comprendere meglio quanto l'uomo incida negativamente sull'ecosistema marino. Quindi un progetto che dimostra ancora una volta quanto l'amministrazione comunale si avvicina proprio al tema della salvaguardia e la tutela del nostro mare, che è una ricchezza inestimabile. Diverse sono le iniziative che abbiamo messo in campo negli anni. Quest'anno, ad esempio, oltre a fare questa disensibilizzazione, ne abbiamo realizzata una più concreta, ovvero abbiamo realizzato l'isola ecologica blu, ovvero all'interno del porto peschereccio di Campomarino di Marugge c'è un'isola ecologica che possono utilizzare soltanto e esclusivamente pescatori che recuperando rifiuti dal mare durante le loro battute operazioni di pesca, che siano di plastica, di polisterolo, di ferro o quant'altro, riportandole a terra senza riabbandonarle in mare, le possono riportare a terra e lì vengono custodite all'interno della nostra isola ecologica e poi ovviamente smaltiti correttamente così come si dovrebbe fare.